Questa specie di look da sirena che vedete non è un nuovo trend, è che non mi sono potuta asciugare i capelli, sono incacchiatissima perché mi si è appena rotto il Dyson che non si accende più, se provo a mettere la spina dentro la presa scrocchia, quindi non ci proverò. Lo lasceremo qui per tutto il tempo a monito e a ricordo di quanto sono incacchiata, però oggi andiamo a parlare di prodotti finiti di make up, ne ho un bel po' quindi avremo un bel po' da parlare. Ciao, io sono Laura e oggi parliamo di finiti make up. Parliamo dei finiti make up di un periodo non meglio precisato perché non ricordo più quando è l'ultima volta che ho fatto un video di questo tipo, però ne ho accumulati alcuni. Di altri mi avete sentito parlare già nell'episodio conclusivo del 23 in meno, del progetto smaltimento dell'anno scorso in collaborazione con Mushroom Simu, quindi se ve lo siete perso andatelo a riguardare perché lì ci sono anche dei finiti make up. Ma oggi andiamo a vedere quelli che non erano nel progetto o che ci sono stati e poi sono stati tolti o che non mi ricordo, insomma. Comunque non quelli specifici del progetto e parliamo anche di qualche accessorio. Allora, anzi parto subito da questi perché ho, diciamo, finito, ma in realtà sto buttando più che altro questi due pennelli viso. Ci sono rimasta molto male perché sono due pennelli che sono andati molto di moda un po' di tempo fa, io in realtà non mi sono trovata bene. Partiamo da questo. Allora, questo è l'ultimo pennello in setole naturali che io abbia mai comprato, non ne compro più. L'avevo comprato, non mi ricordo se da Aliexpress, anche qui di nuovo non compro più da Aliexpress. Però ne avevo sentito parlare molto molto bene, c'era un periodo che andava molto di modo questa cosa dei pennelli a setola naturale. In realtà io ho sempre avuto un sacco di problemi, infatti si vede anche adesso con questo tipo di pennello perché per me hanno sempre perso tantissime setole. E non trovo ormai una differenza così sostanziale con i pennelli a setola sintetica. Cioè io trovo che ormai i pennelli a setola sintetica si possano usare indistintamente per tutti i tipi di prodotti, sia prodotti di tipo liquido, che quelli in crema, che quelli in polvere. Non c'è più tanta differenza secondo me e non ha più senso comprare i pennelli a setola naturale. Quindi diciamo che cercherò di non cadere più in questo influence, l'influencer me l'ha fatto comprare. E stessa cosa cercherò di non cadere più in questi strambi... Ok, questo lo butto perché è successo questo. Questi strambi nuovi metodi di applicazione, che ogni tanto ne esce uno. Questo è di diversi anni fa ormai, questo tipo di pennello viso che serviva, insomma, applicare il fondotinta. Ma vanno tanto bene i pennelli kabuki e quelli da fondotinta normali che abbiamo, perché ci dobbiamo complicare la vita con questi. E quindi anche questo eviterò di comprarlo. Non era brutto l'effetto con questo tipo di applicatore, però è simile a quello di altri normalissimi pennelli che uno può trovare normalmente in giro. E quindi non trovo questa necessità di andare a cercare delle forme un po' strane e nuove. Questo, per chi c'era l'anno scorso, già sul suo profilo, sul canale, sa che è stato un mio odiatissimo. Si è tutto cancellato. Era il primer di Natura Verde. Un prodotto che io avevo comprato come spray fissante. Cioè, pensando che fosse uno spray fissante, perché diceva spray fissante. Però in realtà era un primer. La prima volta che l'ho usato era il primo giorno che io ritornavo in ufficio dopo non so quanti anni di covid e gravidanze, una di seguito all'altra. E alla fine del trucco me lo sono tutto bella spruzzata, tutto contento. Ho fatto una strato così di bianco, di biacca bianca, perché questo era fatto proprio così. L'ho odiato, però alla fine sono riuscita a finirlo. Non lo consiglio minimamente. Secondo me neanche come primer è così bello. Quindi lasciate perdere. Invece mi sono trovata molto bene. Questo è il secondo o terzo flacone che finisco con questo Bear With Me spray fissante 8 ore multitasking spray di NYX. Questo mi piace veramente tanto. È un effetto non completamente matto, però fissa il trucco, toglie quella specie di polverosità che si crea quando mettete la cibria per fissare. È sensitive skin friendly, quindi non dà fastidio a chi ha la pelle molto reattiva come la mia. La cosa carina è che lo potete usare sia come primer che per fissare, per settare il make-up, che come refresher durante la giornata se ne avete bisogno. Finito anche il Fit Me Matte & Poreless Primer, Mattifying Primer. Io d'estate tendo a usare spesso nella zona T un primer mattificante perché appunto d'estate la mia pelle mista diventa leggermente più oleosa nella zona T e quindi mi fa comodo. Devo dire che questo però non mi ha fatto impazzire, al contrario del suo fratello fondotinta che come forse sapete amo moltissimo. Questo per me non ha fatto la differenza, ne ho amati altri molto di più e quindi non lo consiglio. Non è pessimo, però non lo consiglio, preferisco altro, per esempio quello di Smashbox che chiaramente ha anche un costo diverso, però è molto meglio. Invece ho odiato tantissimo questo qui, sempre primer viso, Shine Killer di NYX. Questo era un prodotto, vabbè adesso non riesco a farvi vedere niente, ma era nero, di colore nero, credo dentro avesse una specie forse carbonio o cose del genere. Non mi è piaciuto tanto perché tendeva a sciogliersi, a non sciogliersi, a rimanere in superficie sulla pelle, lasciando peraltro questa scia nera che non era nemmeno tanto bella da guardare. Quindi lo dovevo massaggiare molto attentamente e non mi sembra che facesse grande differenza sulla longevità dei miei make-up. Ho finito anche quest'altro primer in mini taglia di VIV, si chiama Skin Nova Instant Radiance Primer. Carino, è un primer di quelli un pochino illuminanti, io prevalentemente questo tipo di prodotto, quelli che non hanno proprio tanta coprenza, li uso mischiandoli a dei fondotinta quando li trovo un po' troppo pastosi. E con questo uso, devo dire che l'ho molto amato, non sono sicura che vorrà provare una taglia di vendita, diciamo. Questa mi pare che mi era arrivata con qualcosa, forse con un ordine su cult beauty, non mi ricordo. Perché non vive, è abbastanza costoso, secondo me ci sono tantissime alternative rispetto a questo. Non mi sono innamorata talmente tanto da farmi venire voglia di comprare la taglia grande. Finito invece, è amatissimo il Power Fabric correttore di Armani. Non riesco a pulirlo più di così, ma vi assicuro che è finito. Non si riesce nemmeno più a, non fa nemmeno più una cosa piena, un passaggio pieno. Un po' scuro questo per il mio colore invernale, però è un correttore che ho amato tantissimo, che ho amato soprattutto sul contorno occhi. Il mio contorno occhi è abbastanza secco, quindi ha bisogno di cose, diciamo, emollienti, ma che si settano abbastanza bene, perché ha anche un po' di rughettine. Comincia per un po' di rughettine, stanno facciando 39 anni, quindi, insomma, quelle ce le ho per l'età. E devo dire che questo su di me ha funzionato veramente molto bene, è un prodotto davvero ottimo. Questo potrei pensare di ricomprarlo, anche se mi è balenata in mente l'idea di non ricomprare correttori. Adesso ho ancora i quattro da finire del progetto smaltimento 24 in meno. Però, così, mi è balenata l'idea di non ricomprarli subito, quando finirò quelli. E provare a utilizzare la Color Case Made by Mitchell, quindi è una specie di palettina di creme di colori naturali, dal bianco chiarissimo al nero, per tutte le gradazioni di beige, rosa e marrone, che, mischiandole insieme, può funzionare anche come correttore, base viso, prodotto viso, oltre che base occhi, eccetera. E quindi vorrei forse dare un po' di... avere modo un po' di sperimentare quella paletta, anche come correttore. Ma su questo ci aggiorneremo, perché non sono sicura di riuscirci. Poi ho finito due ciprie. Allora, la prima è Bobbi Brown. Questa si chiama Sheer Finish Press Powder in Pale Yellow. Io mi ero innamorata di questa, penso, ormai una decina di anni fa. Forse qualcosa, diciamo, otto anni fa. Perché in Francia avevo comprato il duo di correttore per le occhiaie e cipria. E su di me funzionava benissimo come, appunto, cipria da contorno occhi. Però avevo dieci anni in meno, quindi quando è finito quello, dopo un po' di tempo, ho detto, ah, quella mi era piaciuta di cipria, adesso la ricompro per settare il contorno occhi. In realtà, adesso, con i problemi del contorno occhi di cui prima, quindi rughettine, contorno occhi secchi, eccetera, questa non va più bene. L'ho usata, però, sul viso, con abbastanza soddisfazione. Vedete, questo è il colore. Quindi, leggermente giallastro, però, insomma, si adattava abbastanza. Io ho un sottotono abbastanza caldo di pelle, neutro caldo, e quindi le ciprie giallognole, se non sono particolarmente pigmentate, funzionano benissimo. Quindi, sul viso l'ho usato quella. Invece, sul contorno occhi mi sono trovata bene, provo a pulirvela, con questa qui, Bell Hypoallergenic Longwear Hydrating Powder Ialuronic Acid. Può una cipria idratare? Probabilmente no, però questa non mi seccava. Il contorno occhi l'ho usata con abbastanza soddisfazione. Sì, dovevo metterne la quantità giusta, cioè non abbondare assolutamente, perché non è come la mia amatissima Adria 7 Refresh di Becca, che purtroppo, buonanima, non esiste più. E quella potevo, cioè, quella la potevo mettere, quella veramente sembrava di, quando la mettevate sembrava di mettere qualcosa di bagnato, per quanto era così poco disseccante. Però devo dire che con questa pure non è andata malissimo. Poi, cosa mi rimane qui? Allora, prodotti per le sopracciglia. Gasha Brows di Astra, matita di queste con la mina finissima, piccolissima, vabbè, non siete più, e con lo scovolino dall'altro lato, molto buona, molto buona per il prezzo che ha, soprattutto, è davvero un bel prodotto questo qui, è molto precisa, io, sapete, non sono bravissima a disegnare peletto peletto, però per riempire, ad esempio, i buchetti che io ho sotto, nella parte inferiore della linea delle sopracciglia, dovuti a sfinzettamenti degli anni 90, molto poco, anni 90 e 2000, molto poco intelligenti, mi sono fatta dei buchetti da sola, che con questa riesco, a riempire con grande precisione, quindi non mi dispiace. mi sono trovata bene, boh, mediamente, con questo qui, Tattoo Brow di Maybelline, questo è il mascara, in pratica, di Maybelline, la linea Tattoo Brow a me, in realtà, non dispiace, questo era il loro mascarino, che pettina, e tiene in posa le ciglia, ma, styling gel, lo chiamano, non mi sembra che faccia questa grandissima differenza, è vero che io ho delle sopracciglia piuttosto difficili, perché sono molto lunghe, e folte, per cui tenerle in posa, non è una cosa, non è una cosa proprio banalissima, però, questo, diciamo che, non me lo ricorderò nella vita, come il miglior mascara per sopracciglia che ho provato, diciamo che sono ancora in cerca, del miglior mascara per sopracciglia che ho provato, cioè, non l'ho provato ancora, evidentemente, e credo che fosse una matita, o per sopracciglia, anche questa, non me lo ricordo, dice Deep Brown, quindi, sì, credo che fosse una matita per sopracciglia, non mi ricordo, proverò a cercare, proverò a cercare che cosa fosse, se lo trovo, ve lo dico, e, lo troverete scritto in sovraimpressione, se l'ho scoperto, se ho scoperto che cosa fosse, e poi ho finito questa, che avete visto recentissimamente nel mio decluttering di matite di prodotti occhi, l'avevo tenuta, dico adesso vediamo, mi sembra diversa, dagli altri colori di matita che ho, in realtà, in pratica l'ho usata una volta, ed è finita, quindi, vabbè, se l'avessi saputo, nell'inventario non ce l'avrei neanche messa, perché veramente, neanche un utilizzo ne ho fatto, però il colore molto bello, è di Deborah, la 24 ore waterproof, riesco a fare solo questo, ma perché è piatta, non esce più di così, chiaramente, la mina, per cui, per questo vi dico è finita, ma questo, insomma, quel poco che c'è, riesco a farvi vedere il colore, il colore, magari se ve lo dico, può essere utile, vediamo se lo troviamo, non c'è scritto, però, se non ricordo male, è brown 02, semplicemente, non me lo ricordo, dall'editing del daycuttering, inventario, questi erano i prodotti finiti, di makeup, mi sento abbastanza brava, ovviamente di makeup, il makeup ci vuole un po' più di tempo, a finirlo, rispetto al resto, rispetto alla skin care, anche se avete visto gli ultimi finiti, saprete che anche la skin care, sto un po' rallentando, la rapidità, con cui finisco i prodotti, però, devo dire che mi sono davvero molto soddisfatta, ho una bustina un po' piena, quindi, bene, non so quando arriverà il prossimo numero, di questa rubrica, perché di solito, li facevo, bimestralmente, mi pare, però questa cosa, è un po' saltata, e quindi, vediamo, comunque questi, diciamo, erano un po' del periodo, non c'erano dei veri e propri mesi, di riferimento, niente, questo è quanto, fatemi sapere, se avete provato, qualcuno di questi prodotti, che cosa ne pensate, se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale, e mettete un like a questo video, se il video l'avete trovato interessante, utile, e niente, se vi lascio, vediamo alla prossima, ciao! Ciao!